11 giornate che l'Alessandria scende in campo come il giocatore torna alla roulette. Sarà la volta che la pallina, o pardon, il pallone metterà giudizio? Si direbbe due minuti ed ecco l'unplaine, sia pure per un autogol di Marchi. E dire che quella dell'Inter non è una porta molto abbordabile quando Franzosi la difende. Il Nembo si addensa, secerne fulmini e saette. Per poco l'ala destra Armano non lo scarica in un gol. Franzosi lavora anche da fermo, fa l'occhio di lince. Viceversa Milani si agita per due. Marchi sei un cerebrale, tutto testa. Passa l'acqua risparma Franzosi. Anche qui divisione del lavoro. Rovesciata in piena regola. Calcio d'angolo contro l'Inter. Traventi gambe vince la destra di Marchi. Franzosi vola di parata in parata. I tifosi si inebriano della prima risposta.